Ma dove vai? Non è finita. Che pensi di fare? La città verrà polverizzata. Avanti, T. Chiama il governo. Di loro che abbiamo una cura. Guadagna tempo. Certo che ha le palle. Ma dove sono? Cos'è successo? Cos'è successo? Cos'è successo? Cos'è successo? Preparati al terzo. Cos'è successo? 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 Forse porta i sotterranei. Non è possibile che nessuno all'ospedale se ne sia mai accorto. Non è possibile che nessuno all'ospedale. 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 che nessuno all'ospedale.